Ciao amici di Taliato Games, buongiorno, buongiorno, lunedì 6 giugno, buon inizio di settimana, oggi Inifootball 2022 doveva tornare il campionato e per fortuna è tornato, nessun passo indietro di Konami, qualcuno si era preoccupato per questo, invece no, il campionato c'è, vi dirò un po' di cose su come si è passati alla fase 2 e questa è la buona notizia, la cattiva notizia è che oltre al campionato davvero non c'è altro, ma vedremo tutto in dettaglio, prima però un piccolo promemoria, il solito, supportate questo canale, il modo più semplice se ancora non siete iscritti al canale è di farlo subito, non tutti quelli che seguono questi video sono iscritti al canale perché magari sono iscritti ai gruppi di Facebook, alle pagine di Facebook, ai gruppi e alle pagine di Telegram, beh per favore iscrivetevi anche al canale se già comunque ricevete le notifiche da questi altri social, per noi è davvero molto importante crescere anche su YouTube, su Facebook siamo oltre 22.000 nel gruppo, 24.000 alla pagina, è importante raggiungere queste cifre anche qui su YouTube, quindi se ancora non siete iscritti al canale anche se ricevete queste notifiche fatelo, se poi volete supportarci di più i modi sono sempre tre, abbonarvi al canale, mandare un'offerta unica con il tasto super grazie, quel cuoricino che vedete sotto il video, terza possibilità fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione, quel link lo potete anche salvare fra i vostri preferiti su mobile o su PC e tutte queste cose ci aiutano, ci aiutano davvero, grazie per tutto quello che potrete fare. Andiamo a vedere quindi le novità di oggi che come vi dicevo appunto sono rappresentate soltanto dal campionato, ho dato un'occhiata prima alla versione PC anche per vedere dove mi faceva ricominciare e se non ci sono sorprese dell'ultima ora il campionato è l'unica novità di oggi, ma un po' ce l'aspettavamo perché come direvamo visto le date di scadenza dei giocatori del Chelsea, delle leggende del Barcellona, intanto faccio il bonus di accesso, oggi c'è un contratto a due stelle, sapete cosa penso dei giocatori prendibili con contratto mirato, vi mostro soltanto rapidamente che qui in eventi, soliti tempi un po' troppo lunghi di attesa, c'è solo l'evento scozzese, eccolo qui, che finisce tra due giorni e 21 ore, mercoledì sostanzialmente, poi le partite di prova, le squadre sono sempre quelle, neanche le andiamo a vedere, in Dream Team ci sta solo questo, come potete vedere lo starter, l'evento Roma, l'elenco Ligan, l'evento Worldwide Claps, cosa strana, unica cosa, il Worldwide Claps finisce tra due giorni e 21 ore, l'evento Roma finisce tra un giorno e 21 ore, quindi sostanzialmente finisce un giorno prima, invece il Worldwide Claps finisce un giorno dopo, boh cose strane, staremo un po' a vedere che cosa succede, sostanzialmente quindi l'evento Roma l'8 giugno già dovrebbe presentare la seconda parte, boh staremo a vedere, staremo a vedere, cosa molto strana, ed eccolo qui, finalmente il campionato di football è tornato, allora sapete che io nella fase 1 ho giocato su PC, su Playstation 5 invece devo ancora iniziare, come potete vedere comincerò dalla fase 10 dove dovrò manovrare avversari i manovrati dalle I, però ecco, allora ho letto sul gruppo di Telegram che chi stava in divisione 1 è passato alla divisione 3, io che ero arrivato massimo alla divisione 2 sono arrivati in divisione 5 e penso che è questa la cosa giusta e non dalla divisione 3 perché ho letto anche su altri social che altri che erano arrivati in divisione 2 sono poi scesi in divisione 5, se avete altre segnalazioni da fare differenti fatecelo sapere, insomma dove eravate nella fase 1 della stagione 1 e dove siete arrivati nella fase 2, eccolo qui vediamo che è iniziato stanotte alle 4 di notte e finisce il 16 giugno alle 3.59, quindi giovedì mattina comincerà la stagione 2 e comincerà pure il nuovo campionato della stagione 2, fase 1 stagione 2, fase 2 stagione 1, sì lo so che Konami sembra fare apposta per complicarci la vita, comunque da oggi ovviamente si parte con il campionato, il prossimo video che farò sarà dedicato al livellamento della squadra e fare il primo match in divisione 10 e poi dopo si comincia seriamente con l'online, io però visto che purtroppo non ci sono giocatori risalto come era un po' prevedibile abbiamo capito che questa prima metà di giugno Konami un pochino va un po' a risparmio in fatto di aggiornamenti, scusate prima prendo i premi, eccoli qui, contratto, adesso andiamo a vedere che sono questi qui, i giocatori del Barcellona, i giocatori della Cinch Premiership, il campionato scozzese, il 16 giugno arriveranno nuovi giocatori, quindi se le vostre monete scadono, scusate se i vostri contratti scadono dopo, se non vi interessano i giocatori scozzesi, proviamo a vedere se il 16 giugno arriva qualcosa di meglio, il 16 giugno arriveranno anche gli obiettivi premium, che per il momento invece sono in grigio, ma io ho una grossa volontà che per chi gioca con possesso palla consiglio vivamente, ho visto che Guardiola in assoluto, con 500.000 GP però prima ci devo arrivare, è colui che fa fare lo step maggiore alla squadra a livello di competenza stile di gioco, 87 ce l'ha solo lui, ora bisogna vedere anche gli allenatori leggendari che appunto arriveranno con gli obiettivi premium, ma questo allenatore mi interessa molto, ora però ho bisogno di una punta perché sono passato al 4-4-2 perché Avers non riesce a piacermi troppo ma è un problema mio, tanti mi dicono che è un buon giocatore per il tipo di giocatore, per il tipo di gioco che faccio io o comunque per le mie alchimie diciamo, non è un giocatore che mi rende tanto, devo prendere una punta, ma ho solo 184.000 GP, a questo giro ragazzi non vi chiedo nulla, me la vado a prendere io, peccato immobile perché stava lì per prendere e allora io ragazzi provo un altro giocatore, sono un po' tra Vlaovic e Lautaro Martinez, c'è Ibrahimovic, c'è Mirial, c'è De Bae, c'è Gerard Moreno, c'è Gabriel Jesus, pure interessante, Diego Iota, Osimène, già ce l'ho, Cavani e poi si scende. Allora ragazzi facciamo una cosa, ve lo faccio scegliere a voi, però nel giro di pochissimo faccio questo sondaggio, Lautaro Martinez o Vlaovic, sapete come gioco, sapete il mio tipo di gioco, sceglieretelo voi, vi faccio scegliere fra Lautaro Martinez e Vlaovic, nel giro di poche ore al prossimo video, quindi livello e compro l'attaccante, guardate la mia squadra com'è, in questo momento, scusate mi sono sbagliato, eccolo qui, Lautaro Martinez o Vlaovic, Avers in questo momento non riesce a convincermi, penso anche che metterò Kovacic a posto di Giorginio, livellerò Kovacic e qui quindi questo posto deve essere preso da Vlaovic o Lautaro Martinez. A voi la scelta, lancerò il sondaggio a brevissimo dopo aver pubblicato il video e così dopo compro l'attaccante che mi dite voi e poi iniziamo a livellare in modo semidefinitivo per questa fase 2 della stagione 1 la squadra e vediamo un po' di farla migliorare quanto possibile. Lautaro Martinez o Vlaovic troverete, lo troverete già quando il video sarà stato pubblicato, il sondaggio perché tanto non posso prendere giocatori più costosi, anche Immobile mi interessava, ma non ci arrivo. Fine delle votazioni a mezzogiorno, a mezzogiorno farò il video con l'attaccante acquistato e con il liberamento dei giocatori, quindi a mezzogiorno si chiude il sondaggio, Lautaro Martinez o Vlaovic? Sceglietelo voi, cercate di scegliere in maniera oggettiva al di là delle vostre ferie calcistiche, secondo voi qual è il giocatore migliore? Si assomigliano molto, tutte e due costano 170.000 GP, tutte e due 29 livelli di crescita, tutte e due partono da 81. D'accordo ragazzi, grazie per l'attenzione, si riparte con il campionato, scegliete l'attaccante, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando se potete supportate anche il canale, abbonandovi o facendo un'offerta unica, oppure facendo acquisti su Amazon, passando per i link di affiliazione, link che potete anche mettere fra i vostri preferiti, a posto di andare direttamente su Amazon andate lì e così senza spendere un centesimo di più ci supportate. Grazie per l'attenzione e al prossimo video, ciao!